Chi di voi conosce gli studi di Joseph Campbell sa che Campbell ha messo insieme psicologia analitica e mitologia, dimostrando che nell'una e nell'altra ci sono dei modelli ricorrenti, degli archetipi. Ecco, nel nostro corso andremo dentro questi archetipi per applicarli alle narrazioni moderne, ai grandi romanzi, alla letteratura di formazione, al cinema. In altre parole percorreremo insieme il cosiddetto viaggio dell'eroe che è alla base di ogni storytelling e di ogni cultura con qualche eccezione e che è molto più di un'avventura, è un viaggio iniziatico dentro le paure, dentro le incertezze dell'eroe, un viaggio che lo trasforma e lo rende migliore e dà senso alla sua vita. Faremo tutto questo non perdendo mai di vista il nostro obiettivo, lavorare in classe coi ragazzi affinché imparino a riconoscere questi modelli ricorrenti nelle storie e affinché ne costruiscano di propri, se necessario. Ad esempio, qual è il corrispettivo femminile della chiamata all'avventura dell'eroe? Quale viaggio tipo affronta la donna nel suo arco di trasformazione? A quali alleati o a quali nemici o a quali prove va incontro l'eroina? I ragazzi impareranno non solo a riconoscere questi modelli e a costruirne di nuovi, ma soprattutto a prendere in mano una penna e a provare la magia della scrittura, la magia del costruire storie capaci di diventare mito, che è poi la magia di costruire senso attorno alla vita. Un obiettivo didattico, ma soprattutto un incredibile obiettivo pedagogico. Vi aspetto!